In Germania sono stati arrestati con accuse pesanti di favoreggiamento dell'immigrazione e traffico di clandestini. In Italia l'associazione che li rappresenta li difende, dichiarando che tassisti e conducenti di autonoleggio non hanno alcun obbligo di chiedere i documenti di chi chiede un trasporto. È sufficiente che sia presentabile che paghi. Fatto sta che ben quattro tassisti privati, due vicentini e due padovani, sono finiti dietro le sbarre a Rosenheim e Baviera perché avrebbero accompagnato a bordo delle loro auto e dei loro pulmini decine di profughi siriani che avevano pagato regolarmente il tragitto. Alcuni arresti che pongono in primo piano il rapporto tra Italia e Germania nella questione della gestione dei profughi e che risalirebbero già allo scorso anno. Ma è a luglio che sono stati fermati i quattro Veneti, nello specifico stavano viaggiando con a bordo 25 siriani quando sono stati bloccati dalla polizia tedesca. Il Consolato Italiano di Monaco di Baviera ha confermato la notizia sottolineando la severità delle leggi tedesche in materia di immigrazione clandestina. Una vicenda che non è chiara e per la quale è intervenuta anche l'ANI tra l'Associazione Nazionale Imprese e Trasporto Viaggiatori. Parlare di scafisti italiani quindi sembra quantomeno al momento improprio.